ciao amici sono lox bentornati sui fatti e le opinioni di lox il canale per i veri malati di sport tour de france ultima tappa lo sprint spettacolare nello scenario meraviglioso degli champs elisee un classico del tour de france una tappa come sempre molto tranquilla un trasferimento un carosello l'uae di pogacar che è stata davanti per tutta la tappa fotografie chiacchiere in gruppo velocità bassissima poi si è arrivati sul circuito grande battaglia subito da quando l'uae passata sul traguardo salutando gli spettatori da quel momento sono partiti gli attacchi un paio di volte gruppi di tre corridori tra cui ancora abbiamo rivisto bene shell in vanmore alcuni suini alcuni corridori che avevano già fatto piuttosto bene nel corso del tour de france hanno preso un vantaggio però sempre rimasto sui 20 30 secondi massimo nel frattempo dietro le squadre dei velocisti stavano cercando di costruire i treni per provare ad andare a portare a casa la vittoria il favorito di giornata era naturalmente mike cavendish che stava lottando per conquistare definitivamente la maglia verde e soprattutto per battere il velo dai record di eddie merckx raggiunto e superarlo come maggior vincitore di tappe al tour de france il treno del senic stava funzionando perfettamente sembrava perfettamente allineato però nell'ultimo giro diversi attacchi hanno creato grande confusione nel giro ci ha provato che chi ha colscipi ci ha provato garen thomas hanno provato i cofidi ci ha provato gli educational insomma una gran confusione e nell'insieme di questo disordine che la design che non è riuscito a tenere sotto controllo cavendish ha perso il gruppo il treno classico che l'ha guidato a tanti successi in questo tour de france alcune volte anche come ha messo direttamente marca addirittura alcune volte ha vinto la squadra più ancora che vincere ma che completava semplicemente il lavoro stavolta invece il morcovo ovvero il pesce pilota che ha sempre aiutato cavendish a portarlo fuori dal gruppo l'ha fatto mike tionisen per portare fuori vot van harte vot van harte ha fatto uno sprint fantastico ha completato il lavoro che tionisen gli ha servito su un piatto d'argento ha regolato philips e in cavendish è riuscito a arrivare solo terzo avendo perso oramai i contatti e riferimenti con i suoi compagni di squadra vittoria di van harte van harte ieri ha vinto la cronometro oggi ha vinto in volata la settimana scorsa aveva vinto il mont 21 la tappa con la doppia scalata ragazzi che corridore sono veramente affascinato da questo corridore straordinario 26 anni potenzialità sostanzialmente illimitate l'unico dubbio che possiamo avere su van harte è potrà un giorno provare a vincere il tour de france ok è arrivato in classifica quasi un'ora di ritardo vuol dire che deve andare un'ora più veloce per cercare di essere competitivo col tour certo anche alcune delle iniziative dei risultati eccezionali che ha fatto nel corso di questo tour de france li ha fatti anche perché è uscito dalla classifica le corse a tappe sono diverse dalle corse di un giorno però le potenzialità di questo ragazzo sono assolutamente eccezionali va a tokyo va con i favori del pronostico gara in linea gara cronometro secondo me due medaglie assolutamente alla portata magari anche due ori un corridore eccezionale bellissimo anche una volta tagliato il traguardo vedere gli altri corridori che sono andati a complimentarsi con lui cavendish vince comunque la maglia verde per la seconda volta nella sua carriera la prima volta fu nel 2011 ovvero dieci anni fa cavendish ha fatto un tour straordinario ci è arrivato grazie anche all'infortunio di bennett grazie anche agli ottimi risultati che ha fatto nella stagione in turchia quando ha vinto molto bene le tappe nel giro di turchia piuttosto che al giro del belgio con la vittoria nell'ultima tappa nello sprint altura ha fatto benissimo e corre con la squadra probabilmente migliore per le volate finali ma ha fatto molto molto bene e porta a casa una maglia meritatissima michael matthews è stato un competitore accanito fino alla fine così come colbrelli ma né matthews né colbrelli sono riusciti mai negli sprint finali a poter mettere zampate a poter mettere piazzamenti più importanti cavendish invece da questo punto di vista ha fatto un lavoro eccezionale oggi però tutti i fari sono su van aert eccezionale sono naturalmente su today pogaccher che vince per il secondo anno consecutivo il tour de france lo stravince ritardi pazzeschi su tutti vince la maglia gialla vince la maglia a po a vince la maglia bianca di miglior giovane e rischia veramente di aver fatto partire una dinastia assoluta su questo tour de france però è un tour particolare ne parleremo domani faremo qualche pagella globale sulle squadre sicuramente pogaccher era il più forte di tutti penso che se anche non ci fossero state le cadute nelle prime giornate non credo che sarebbe cambiato molto però sicuramente il fatto che avversari importanti come thomas piuttosto che come roglic siano stati eliminati subito a causa delle cadute può aver favorito il compito del corridore sdoveno che è stato comunque fantastico grazie ragazzi video piuttosto veloce perché comunque la tappa è stata è stata piacevole è stata cor come è stata corredata volevo dire questa parola da uno splendido commento io ho scelto di seguire anche quell'edizione del tour de france su euro sport luca gregorio e riccardo magrini una coppia che mi piace tantissimo certo è difficilissimo coprire tutte queste ore di diretta ogni tanto si divaga ogni tanto si chiacchiera ma io adoro gli aneddoti di magrini e passerei ore ad ascoltarli quindi a me va anche benissimo comunque così e quando poi c'è comunque da essere concentrati sul ciclismo si parla di ciclismo gregorio molto bravo e magrini riconosce al volo tutti i corridori capisce le logiche delle cose della corsa è assolutamente eccezionale quindi grande commento su euro sport mi sono veramente divertito tour de france così così certe cose mi sono piaciute certe cose un po di meno iscrivetevi al canale like se vi piace il video campanella per essere avvisati dei prossimi contenuti con il ciclismo ci vediamo domani con questo video di commento e la pagella di tutte le 23 squadre una cosa veloce comunque naturalmente non una cosa troppo lunga però delle pagelli di tutte le 23 squadre che hanno preso parte a questo fantastico tour de france intanto grazie un saluto un bacio a tutti ciao da l'ox